Credo che a partire dalla fine di questo mese, inizio di aprile, diciamo subito dopo Pasqua, avremo tutti quei vaccini necessari per cominciare una vera massiva vaccinazione per tutti gli abitanti. Il Ministro Speranza ha detto forte e chiaro che per fine mese arriveranno diversi milioni di vaccini, che ovviamente vanno distribuiti in tutta Italia, e poi ha detto anche lui, ha usato questo termine di una grande ondata di vaccini dopo Pasqua, e quindi non possiamo non dubitare di quello che e dobbiamo fare in modo che quello che stiamo vivendo di difficoltà, di disagi, guardi però in prospettiva verso un'assicurazione di questo genere. Il generale Figliuolo ha detto le stesse cose. Lui è appena arrivato, diamo di qualche giorno per ambientarsi ancora meglio, ma mi sembra già in linea e corrente con quelle che sono i lavori che si devono fare. Io credo, lo ripeto, che ad aprile, anche con l'arrivo del vaccino Johnson & Johnson e con anche nuove prospettive di vaccini, penso a quello russo, lo Sputnik, dovremo avere un numero sufficiente di vaccini per cominciare davvero questa grande operazione su tutto il territorio.